Bisogna essere onesti, l'Inter sta mettendo un colpo dopo l'altro e volevo commentare appunto adesso la voce che sembra essere più concreta di una semplice ipotesi di Arturo Vidal, clamorosamente nuovo giocatore dell'Inter. Sinceramente credo che tra i tifosi della Juventus ci saranno molti mal di pancia perché Vidal è uno dei più rimpianti nella tifoseria bianconera è uno dei rimpianti più grandi dei giocatori con maggiori rimpianti addosso da parte dei tifosi che lo vorrebbero di nuovo alla Juve lo avrebbero ripreso subito in ciascuna di queste ultime stagioni nelle quali è stato lontano dalla Juventus credo siano state tre con precisione in cui è stato appunto al Bayern Monaco ed è stato ammirato dai tifosi giuventini per le sue gesta le sue prestazioni al Bayern Monaco appunto con tantissimi rimpianti anche osservando talvolta quanto non fosse più forte alla Juve che al Bayern sotto certi aspetti ma non andrà così, Vidal non tornerà alla Juve e ovviamente non c'era nessuna ipotesi da questo punto di vista anche perché la rottura con la Juventus è stata direi abbastanza insanabile per fattori extracampo ma da questo punto di vista l'Inter ha già dimostrato di non guardare in faccia a nessuno prendendo Nainggolan altro fuggiasco però dalla Roma sempre per questioni extracampo ricorderete il video in diretta su Instagram a Capodanno che diciamo ha allontanato definitivamente Nainggolan dalla Roma ha creato una frattura non più rimarginabile e approfittando anche del fatto che Nainggolan è un pupillo di spalletti l'Inter appunto l'ha preso colpaccio, senz'altro un colpaccio anche se a me personalmente appunto non piace Nainggolan come diciamo a livello caratteriale, non mi piace Vidal a livello caratteriale ma non possiamo negare che si tratti di due grandissimi centrocampisti, tra i migliori del mondo, magari non i migliori dieci ma sicuramente tra i centrocampisti più forti del mondo quindi un centrocampo quello dell'Inter che si appresta ad essere veramente di livello non come nelle scorse stagioni quando ci si stropicciava gli occhi e si riempivano le pagine dei giornali con i nomi di Kondogbia o Everbanega o lo stesso Joao Mario, tutti giocatori poi alla fine andati via dall'Inter e risultati diciamo soltanto dei nomi e null'altro quindi tradendo le aspettative qui invece si fa sul serio, si fa sul serio, sono giocatori forti e direi che il mercato dell'Inter è veramente straordinario lo dico da Juventino, non mi capita quasi mai di fare complimenti all'Inter perché secondo me quasi mai si rimerita ma questa volta non posso astenermi dal commentare positivamente il mercato dell'Inter e non è soltanto Vidal che non è ancora un affare fatto nel momento in cui vi parlo e registro questo video anche se veramente pare ci sia stato l'ok del Bayern che era praticamente l'ultimo scoglio perché Vidal voleva andarsene, Vidal avrebbe accettato quindi mi pare che accetterà, abbia accettato l'offerta dell'Inter ma parlo anche appunto di Nangolano e parlo anche di Versalico, Sime Versalico classe 92 terzino del quale ho un ottimo giudizio veramente, lo avrei voluto alla Juventus quando ancora giocava nel Sassuolo mi è dispiaciuto vederlo andare all'Atletico Madrid perché temevo non sarebbe mai più tornato in Serie A o non sarebbe tornato in tempi brevi invece è tornato, è tornato in reduce da una vittoria in Europa League è in reduce da un mondiale da titolare tra i giocatori fondamentali della Croazia di Balic e quindi si riuniscono anche i croati dopo Brozovic e Perisic e c'è anche questo, c'è il fatto che l'Inter prende Versalico, prende forse Vidal ha preso Nangolan per Versalico affare fatto, prestito con diritto di riscatto così come per lo stesso Vidal dovrebbe essere una formula molto in uso all'Inter in questo calciomercato e ha preso poi a zero De Vrij che comunque è un ottimo difensore per un Inter che si affida comunque all'ottimo, veramente ottimo Skriniar come titolare ha preso Asamoah a parametro zero che è reduce da un'ottima stagione alla Juventus è in un ottimo stato di forma ed è un upgrade per il reparto terzini dell'Inter ma nello stesso tempo, dicevo, non cede nessuno Icardi resta, Perisic resta, Brozovic resta si ironizzava sul fatto che se l'Inter si riuscisse a disfare di Candreva sarebbe una squadra più forte ma chissà che Candreva non si rivitalizzi anche con questi nuovi acquisti quindi un mercato assolutamente positivo un Inter che si mette nettamente avanti al Napoli nella corsa Scudetto o comunque nella corsa ai primi posti alla Champions League e quindi un Inter che se ne in questa scorsa stagione nonostante Spalletti che è un ottimo allenatore abbia raggiunto la Champions con grande fatica e veramente all'ultimo secondo, all'ultimo gol nello scontro diretto con la Lazio probabilmente in questa prossima stagione potrà andare più serenamente verso la qualificazione diretta in Champions con anche un po' di anticipo, un po' di margine questo almeno è quello che vediamo sulla carta poi ovviamente il campionato va sempre giocato ma se vogliamo dare dei voti dopo la Juventus che ha fatto un calciomercato veramente da paura anche soltanto per Cristiano Ronaldo e poi bisogna mettere Giocanzeiro bisogna mettere Emre Can bisogna ammettere di non aver ceduto praticamente nessuno perché non è andato via Pjanic non è andato via Dybala è andato via Guain ma Guain diciamo che non era più con Cristiano Ronaldo il titolarissimo dopo la Juve dicevo c'è l'Inter con un calciomercato veramente da paura e veramente da applausi da paura insomma nel senso un ottimo calciomercato poi la paura bisogna averla sempre sul campo bisogna vedere sempre poi sul campo come vanno le cose però veramente un calciomercato da applausi che nettamente migliore sicuramente migliore di quello del Napoli che invece a mio avviso è stato un calciomercato pessimo ma del Napoli eventualmente parlerò domani in un altro spazio extra qui sul canale sono in attesa di capire i risvolti per darmi anni quindi comunque iscrivetevi qui al canale se non l'avete già fatto e vi interessa i miei contenuti di calcio oltre che di Juventus attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video che usciranno qui lasciatemi i vostri commenti mettete like al video e date un'occhiata alla descrizione qui sotto il video che rimanda ai miei profili social dove potete appunto seguirmi Instagram, Facebook, Twitter e il canale Telegram a presto e sempre Forza Juve